Entra nel vivo l'estate dei ritiri calcistici in Cadore. Si avvicina la prima amichevole della Lazio ad Auronzo. Il quindicesimo ritiro si è aperto con quattro giorni di doppie sedute agli ordini di Mister Sarri. Domenica, alle 18, la compagine bianco-celeste affronterà i padroni di casa dell'Auronzo, in quella che ormai è diventata una sfida abituale. Le altre amichevoli in programma per capitani immobile e compagni prevedono il 14 luglio lo scontro contro l'NK De Cani, squadra della seconda serie slovena. Il 17 sarà tempo della Triestina, mentre il 21 luglio ci sarà l'ultima amichevole ad Auronzo contro un'altra squadra della serie bislovena, il Primorge. Sono stati ufficializzati anche i prezzi delle singole partite, le prime due dal costo di 12 euro, mentre per la terza e la quarta il biglietto costerà 15 euro. I bambini sotto i 6 anni entreranno gratis a Rodolfo Zandegiacomo, gran parte dei tifosi laziali è attesa sotto le tre cime a partire da questa settimana. La Lazio rimarrà infatti in Cadore fino al 22 luglio, rimane l'attesa per capire la data della presentazione della squadra, mentre non mancano le curiosità in questi primi giorni di ritiro. Tanto affetto da parte dei tifosi, ricambiato dai giocatori, con autografi, selfie e qualche maglietta e pallone regalato. Immancabile l'Aquila Olimpia ed anche il bagno nel Torrent Anciei, tra una seduta e l'altra. Tanto lavoro e tanta fatica, con Sarri e staff che controllano gli allenamenti anche con l'aiuto dei droni. Mentre tutto fila liscio in Auronzo, inizia oggi l'avventura del Perugia a Pieve di Cadore. La squadra di serie B si allenerà sul campo di Sottocastello fino al 23 luglio. Due, le amichevoli in programma. Domenica alle 18 contro la locale formazione che gioca nel campionato CSI ed il 14 luglio alle 17.30 contro il Real Vicenza. Mister Castori ha convocato 30 giocatori per il primo ritiro cadorino della società biancorossa. In Cadore sarà un altro luglio all'insegna del calcio.